Salve e bentornati. C'è una frase abbastanza nota nei paesi di lingua inglese con la quale si chiede perché il pollo ha attraversato la strada. Pensate è una dichiarazione antica che risale alla metà dell'ottocento. Venne pubblicata per la prima volta in una rivista new yorkese. La formulazione moderna della quale si sono appropriati anche i commedianti. È anche una battuta nota che si può utilizzare in inglese o qualunque pericano la capisce. In inglese è Why did the chicken cross the road? Nella formulazione originale era Why does a chicken cross the street? Per quale motivo? Adesso non ci addentriamo nei dettagli di questa frase. sulla quale vengono costruite delle barzellette, delle freddure, dei giochi con degli amici ed scogitare perché il pollo ha attraversato la strada. Il fatto è che esiste una risposta diretta, immediata, non ironica, che risolve questa domanda. Il pollo ha attraversato la strada perché voleva andare dall'altro lato. To get to the other side. Quando qualcuno pone la domanda Why did the chicken cross the road? To get to the other side. Ora voi direte ma che razza di inizio è? Che razza di discorso è questo? Sapete, io spero sia ormai chiaro per quelli che ascoltano questi modesti discorsi che il pensiero si annida ovunque così come l'assurdo oggi si annida ovunque. Il pensiero si annida ovunque anche in queste in queste formulazioni alle quali in genere non si presta attenzione. Per questo io ho utilizzato una frase che magari in Italia non è così nota ma in America è estremamente comune sulla quale nessuno riflette, nessuno pensa al contenuto di questa frase. Ora la risposta, non quelle ironiche, ma la risposta fattuale, reale, a questa frase perché voleva andare dall'altro lato esaurisce la domanda. Ma perché la esaurisce? Perché è una dichiarazione di fatto. Ora noi un po' abbiamo perso il senso delle dichiarazioni di fatto. Wittgenstein che scriverà molto dopo quando avrebbe forse definito questa dichiarazione che non ha mai utilizzato, non ne ha mai parlato nei suoi scritti di questa frase, ma l'avrebbe definita forse indirettamente come uno stato di cose. Wittgenstein utilizzerà molto nella sua analisi del linguaggio e della realtà utilizzerà molto concetti come le raffigurazioni ad esempio degli incidenti stradali dove la macchina che viene da destra colpisce la macchina che viene da sinistra. Dunque attraverso la schematizzazione, il posizionamento delle macchine, l'incrocio con i semafori, con la segnaletica eccetera questa configurazione costituisce lo stato di cose, il Sachverhalt diranno Wittgenstein. Ora la dichiarazione il pollo attraversa la strada perché vuole andare dall'altro lato chiude tutto il discorso logico definendo lo stato di cose. Tu non puoi aggiungere una terza opzione perché per qualunque qualunque altra ragione tu puoi inserire ad esempio il narratore il narratore della realtà potrebbe inserire ad esempio le motivazioni del pollo perché il pollo vuole andare dall'altro lato perché ha dei motivi suoi perché c'era del mangime ma la realtà di fatto è che voleva, aveva bisogno di andare dall'altro lato. Adesso sapete questi cappelletti oltre che estendere delle possibilità di discorso ulteriore se noi fossimo qui in una classe potremmo fermarci moltissimo su questo tema e potremmo anche imparare ad estrarre il ragionamento e il pensiero da frasi in apparenza banali. Pensate molte dei grandi discorsi del pensiero del pensiero, oggi diremmo del pensiero filosofico ma io direi del pensiero, hanno delle, partono da delle domande che alla mente non allenata da coloro non abituati al ragionamento soprattutto nel ventunesimo secolo che è un fosso del non pensiero che è la radice quadrata di due del non pensiero appaiono come domande stralunate, assurde. Pensate uno dei temi classici del pensiero filosofico quando dice perché esiste qualcosa e non il nulla, famosa frase di Leibniz che poi riprenderà Heidegger e reintrodurrà nel pensiero filosofico contemporaneo. Ora, questa impostazione, questo vedere dei contenuti attraverso delle formulazioni che in un'epoca non soltanto disabituata al pensiero, perché non è che noi abbiamo avuto, non è che questa frase, pourquoi il y a-t-il-quel-chose-en-pale-ne-a, così perché nella monologia che è scritta in francese, non è che era una frase che tu la potevi dire a un contadino dell'epoca e quello l'avrebbe capita. Però la differenza tra quell'epoca e oggi è che il contadino avrebbe avuto ben chiaro il fatto che lui non la capiva proprio a causa di determinate sue manchevolezze. Non si sarebbe permesso di giudicare, di fare grandi discorsi, di dire che sono sciocchezze, di dire, pensate, io non lo posso dimenticare, l'ex ministro dell'economia italiano, si vabbè, tra i politici italiani, la lista di quelli che dicono sciocchezze riempirebbe diverse enciclopedie, ma è quando disse che con la cultura non si mangia. Queste frasi sarebbero impensabili in altre epoche, in altre epoche si veniva definiti, si veniva rimandati alla storia per una frase, perciò c'era anche una grande attenzione, si capiva, diciamo, il peso del discorso, il peso del pensiero, si capiva che se Leibniz ha detto una cosa non arrivo io e sovverto Leibniz perché sono più bravo, più intelligente. Questa forma di hubris, di tracotanza, questo tipo specifico di tracotanza è proprio un prodotto della modernità dove io prendo il telefonino, metto lì due numeretti e immediatamente ho le risposte. dunque sono bravo, dunque so. Ma attenzione, dietro tutto questo chiaramente vi è il peso profondo, lancinante direi io, dell'ideologia della modernità che è l'ideologia dell'utilitarismo, del pragmatismo che vede soltanto il pensiero nell'utile. Ciò che è utile, è buono, è bello, è elevato, è un prodotto di pensiero. Ciò che non produce denaro è completamente inutile, non serve a niente. Ma questo purtroppo appunto è la modernità, lo sappiamo. Quelli che facciamo questi discorsi, quei pochi che siamo rimasti, quelle rare avis rimaste a fare questi discorsi, lo sappiamo, lo subiamo, lo sentiamo e continuiamo a dire che pur si muove. Perché non c'è altro compito, non può esserci altro compito in una modernità impazzita, in una società che è completamente scappata di casa. E proprio per questo io facevo questo discorso sulla frase del pollo che conclude, che conchiude, un periodo logico, semplice, elementare. E perché dico questo? Proprio di recente ho sentito un'intervista di una donna, la quale essendo stata gravemente danneggiata dall'inoculazione sperimentale, anche qui, vedete, scusate, questa è una parentesi, ma come si fa a dire che noi siamo un'epoca che ha anche una parvenza di razionalità, quando dopo tre anni siamo ancora qui a brancolare nel buio, dobbiamo fare le commissioni, quando la realtà non è più evidente per sé. Per questo vorrei intitolare questo contributo Paradossi Morali e Senso della Realtà. Perché il senso della realtà era una volta l'ancora, era una volta il riferimento su cui dopo questo riferimento tutto doveva tacere. Fare riferimento alla realtà, dire questa è una penna, chiudeva ogni altro discorso. Oggi non è più così. Oggi abbiamo una trasformazione della realtà attraverso la virtualità, ma non soltanto la virtualità imposta dai media, dalla disinformazione, ma anche da una determinata ideologia che compone delle visioni del mondo alle quali gli esseri umani si abituano, si aggrappano, dalle quali vengono soggiogati. Ed è una situazione non soltanto pericolosa, ma anche grottesca, anche ridicola. Per questo c'è stata un'altra di queste polemiche su un murales fatto a Rimini, di un uomo che allatta un infante. Ora, e ci sono state polemiche, la solita bagarre, il solito mettere, porre l'attenzione su temi che non meritano attenzione. Vedete, se noi avessimo un senso della realtà, cioè noi non fossimo dove siamo, se non fossimo nel ventunesimo secolo, il murales di Rimini ci farebbe soltanto ridere. Oppure, se fosse fatto bene, potremmo apprezzarne la maestria dell'autore. come dicevamo, l'ho già detto, come se si trattasse di un unicorno, come se si trattasse di un drago, di un alieno, di qualunque creatura immaginaria. Però vedete, anche qui secondo me si mostra proprio la problematica, la pesantezza del gioco del non pensiero che ha raggiunto il... a cui è arrivato, a cui è giunto il ventunesimo secolo. Perché si tende a ritenere che l'immaginazione sia realtà. C'è un bel libro di uno psicologo americano uscito molti anni fa, Avery si chiama lui, in cui diceva l'immaginazione è realtà. Proprio è il titolo del libro. Adesso non vogliamo andare troppo oltre su questo lato del discorso, ma... Dicevamo c'era questa intervista, c'è stata questa intervista, e questa signora, danneggiata dall'inoculazione di un siero sperimentale, cosa che meraviglia, no? Sapete, un siero sperimentale danneggia chi se lo fa. Ma cosa ci dovrei pensare per poter... Sapete, se non lo vedessi non ci crederei, no? Vedete il ventunesimo secolo. E questa signora, in questa intervista, veramente triste da vedere, da ascoltare, ha chiesto chi è responsabile della sua condizione. è una cosa che colpisce, perché uno dice, scusa, sei un'adulta, ti sei fatta questa cosa, scelto costrizione, tutto quello che vuoi, ma sapete, se io ho comprensione, se c'è uno che mi punta una pistola, e la mia scelta è gettarmi da una rupe, sapete, quelle dove si tuffano questi tuffatori professionisti da 50 metri, quella l'altra. Allora la mia scelta è o quello mi spara o mi getto dalla rupe, qualunque persona di buon senso, si getta dalla rupe nell'acqua, perché almeno lì c'ha una possibilità di sopravvivere. La scelta non può essere quella che ti... io non posso dire, ah, io ho scelto di farmi sparare da quello. Chiaramente voi direte, ma non l'avevo capito. Ma attenzione, se sei adulto e non hai impedimenti mentali, è anche tuo compito quello di capire. Cioè è proprio che ti è demandato come compito. Se c'è un compito che ti è demandato come Homo sapiens, è quello di capire quello che ti succede, il mondo che hai intorno. Cante direbbe appunto di avere una tua autonomia. Ora, è strano che questa signora dica chi è responsabile. Allora, innanzitutto sei tu responsabile. Non ci sono dubbi, non ci sono vie, non ci sono discorsi intorno. Perché se noi cominciamo... La pietà umana, tutto quello che volete, la solidarietà, anche se oggi appunto ne hanno fatto scempio di questa parola, la simpatia, la commozione, è una cosa, è un sentimento. Ma la valutazione razionale è quella che ci dice sei tu responsabile in primo luogo. Poi possiamo aprire molti discorsi, qui in sede giuridica, dire se la persona è stata informata correttamente, non informata correttamente. Però io credo che nel momento in cui hanno iniziato con le inoculazioni sperimentali esisteva una quantità di informazione a disposizione che rendeva possibile una scelta informata. Non da parte della disinformazione, ma da parte di altri canali. quando tu, anche attraverso la calunnia, diciamo, tu sei una persona che sa fare due più due, ti mettono in tv tutte queste grandi stelle della virologia e in questo contesto questi calumniano, una di queste stelle della virologia è stata condannata a un indennizzo per la famiglia di Montagnier, ti dicono, c'è però un premio Nobel, pazzo, cattivo, che dice il contrario. La persona razionale in quel momento si ferma, dice un momento, wait a minute, tu che sei in televisione sei bravo, qual è il... magari te lo vai a vedere un attimo chi è questo signore, e poi tu tutto quello che vuoi trovare, ma... che ascolti un discorso che fa questo signore, insomma, non prendi alla leggera delle scelte che non possono essere prese alla leggera, non si tratta di, non so, mangiare una... di prendere un'aspirina o di... non lo so, mangiare un piatto invece piuttosto che un altro. dunque, è già strano che una persona... strano lo dico qui con molte virgolette, perché... evidente che io da una persona che agisce così mi aspetto esattamente questo, perché è una persona che ha demandato la sua libertà, leggete From, la fuga dalla libertà, che ha demandato la sua autonomia, la sua libertà, ad altri. e allora dice, ma io ho fatto quello che tu mi hai detto. Però vedete, questa è una cosa che a me colpisce sempre, e la ripeto spesso, l'ho ripetuta in molti paesi, molte lingue, non ho fino ad oggi trovato un paese, una civiltà, una lingua, una cultura, in cui questo assioma non fosse valido. Sapete, c'è quella... la domanda, l'affermazione secondo cui... ah, ma lo fanno tutti, lo hanno fatto tutti. Io quando le persone dicono queste cose, gli dico, ma tu vieni da Vattela Pesca. Io ti posso garantire una cosa, che tua madre, che viene da una cultura che io... è completamente lontana, parla una lingua che io magari non capisco, però se tu fossi andato, o andata da bambino, da bambina, da tua madre, e gli avessi detto, voglio fare questo perché tutti gli altri miei compagnetti lo fanno, tua madre, non importa in quale lingua, in quale cultura, ti avrebbe risposto con la stessa, esatta frase. Ma allora se tutti si buttano dalla finestra, o si buttano dal burrone, variano magari le... tu che cosa fai? Ti butti anche tu da...? Questa è una frase classica che rappresenta, vedete, torniamo accanto al mutterwitz, al buonsenso, che in tedesco c'ha la connessione con la madre, la quale ti riporta alla realtà. Dici, sì, ma i miei compagni... sì, ma se i tuoi compagni facessero questo, allora tu... La sto dilungando, ma questo è il famoso argomento ad populum, ad o populus, cioè quando tu hai il... tutti quanti fanno... o ad numerum... numerus acidem... che il... tutti quanti fanno una cosa... e per questo dicevo, beh... e questa è una fallacia, non hai ragione per farla. però che viene riassunto in questa... in questa semplice dichiarazione che tutte le culture conoscono. Ora... tutti conoscono... perché proprio volevo... introdurre qui paradossi morali e senso della realtà... tutti conoscono il... quello che in italiano viene tradotto con il problema del carrello ferroviario, che è il trolley problem, che viene scogitato da Filippa Foote, questa signora inglese. Innanzitutto, vedete... viene detto problema, ma in realtà non è un... ventunesimo secolo, no? non è un problema, ma è un dilemma. Cosa dice il dilemma del carrello? Dice che... poi ce ne sono diverse varianti... comunque la variante è nota... e se voi avete un carrello ferroviario... che sta andando per un binario... e su quel binario c'è una persona... invece sul binario di sinistra... scusate... sul binario di... dove sta andando ci sono cinque persone... sul binario di sinistra ce n'è una sola... e voi avete la possibilità di azionare uno scambio... cosa fareste? Azionereste lo scambio facendo andare il carrello dove ci sono... dove c'è la sola... una persona sola... invece di cinque... oppure la cereste che il carrello ferroviario... andasse per la sua strada... uccidendo quelle cinque persone... questa cosa vedete... a me ha sempre colpito da quando... ne ho visto la popolarizzazione attraverso... guarda caso... un tizio di Harvard... che fa lezioni in un teatro... che ha 20 milioni di views... ventunesimo secolo... e innanzitutto quel filmato fu sconvolgente per me... già la prima volta che me lo emiarono... perché io vedendo questo filmato... mi aspettavo che uno degli studenti... sapete... Harvard... bravi... desse una... spiegazione... dicesse... guardi che... perché questo la dilungava... sul troll... cos'era giusto fare... poi infatti alla fine... non ha neanche spiegato... allora... il tema che questo signore voleva portare avanti... il tema che vogliono portare avanti quelli... con questo dilemma... è quello secondo cui... se voi azionate la leva... per portare il... il vagone ferroviario... sul binario dove c'è una sola persona... vi rendete colpevoli di omicidio... dunque siete responsabili di fronte alla legge... la questione è anche molto più complessa... però... una complessità di cui... il grande signore con l'auditorium pieno di Harvard... non ha toccato neanche minimamente... ma che vogliamo farci? questa è l'industria culturale... questo è il ventunesimo secolo... uno degli aspetti potrebbe essere... il problema grave... serio... pesante... che l'ideologia ha nella nostra società... in cui l'individuo percepisce... se stesso come massa... come numero... e ritiene che il numero... vedete... da quella mancata risposta... da quella risposta di quello che dice... io sposterei la leva... per andare a uccidere quello solo... c'è anche il morona lì... c'è l'ideologia del morona... perché chi fa questa operazione... ritiene che... cinque... sono più di uno... che numericamente e aritmeticamente è corretto... se parliamo di cinque pere... di cinque mele... di cinque lattine... di birra... ma se parliamo di esseri umani... non è più così... per una infinità di ragioni... perché l'umanità parte dal singolo... direte... ma cinque singoli? sì... però io poi nel trolley... ti posso anche fare... un'aggiunta... ti posso dire sì... però quei cinque sono... questa è la mia risoluzione del trolley problem... quei cinque sono... Stalin... Hitler... Mussolini... Pol Pot... e Mao... e quell'altro è Gesù Cristo... cosa fai? vedi... sempre cinque contro... eh... se la tua logica... scusate... dico la tua logica... nel senso... quando io dico la tua logica... dico il tuo errore... perché non esiste la tua logica... o la mia logica... esiste la logica... ma se tu vuoi seguire... una logica... che tu... un qualcosa che tu ritieni sia logico... allora devi continuare a mantenere che... Mussolini... Stalin... eccetera... sono più di Gesù Cristo... dunque... tu devi andare ad uccidere Gesù Cristo... mettete chi volete... potete mettere Schweitzer... potete mettere... Maria Teresa... eh... ehm... ehm... madre Teresa... madre Teresa... sì... e... per far capire... che nel... dal punto di vista umano... uno... vale tanto quanto cinque... infatti la legge ti dice... se tu sposti il... il trolley... sei colpevole di omicidio... non ci sono santi... dice... ma io ho salvato cinque persone... ma questo non... non ti... forse potrebbe essere un attenuante... ma non ti... non ti scagiona... finisci in galera... vedete... paradossi... morali... e senso della realtà... ora... questa signora che è diventata nota... anche per questo... per la... per avere scogitato questo... questo dilemma... che loro chiamano problema... e anche... secondo... Wikismart... questo l'ho... guardato su Wikismart... perché a me interessa sempre andare a vedere... perché... Wikismart... è... come dire... quando si vuole capire... quando si vuole vedere... a quale punto... può arrivare l'immaginazione... uno va a vedere le televisioni... ad esempio... va a vedere i telegiornali... quando vuole vedere un po' di fantasia... all'opera... e la stessa cosa è per Wikismart... il secondo Wikismart... la signora... Filippa Foote... è fondatrice... della Virtue Ethics... questo è un tema... sapete che... dovremmo un giorno... trattare... ma... e non si può trattare tutto... e... non capisco... perché non ci sia... ma... non lo capisco... perché non ci sono trattazioni... su questi temi... perché viviamo nel buio della ragione... nel buio della cultura... ma... la Virtue Ethics... è un grosso... grosso... grosso problema... anglosassona... chiaramente... che ormai... si è diffuso ovunque... anche se ormai... la Virtue Ethics... diciamo... è... uno degli ultimi... tra i nostri problemi... con... le ideologie... Vogue... con... tutto... tutto il parapiglia... del ventunesimo secolo... portato sempre avanti... attraverso... le strutture... dell'industria culturale... della socializzazione... tanto quanto... vengono portati avanti... tutti i progetti... scombinati... di cui magari... diremo due parole... in seguito... la Virtue Ethics... io prendo adesso... la definizione... che ho trovato... sulla voce... della Stanford University... dice che... le considerazioni... le considerazioni... le considerazioni morali... moral considerations... such as... those of justice... and... charity... are on par... with self interest... and desire fulfillment... vuol dire... le considerazioni morali... come quelle... della giustizia... e della carità... sono... fanno... sullo stesso piano... dell'interesse personale... e della... realizzazione... di un desiderio... vedete qui... dove arriva... una parte... e se non voglio entrare... sul fatto che... anche la Virtue Ethics... non è certo... stata... come dicono questi... creata... dalla signora Futh... è già Aristotele... che parla di Virtue Ethics... però in senso... molto diverso... loro... prendono le parole... e gli fanno fare... il solito salto... semantico... che è proprio... un mezzo... della modernità... è un mezzo... di epoche ideologiche... e... purtroppo... è anche un mezzo... del... che... che emerge... nella storia... in particolare... a seguito... delle guerre di religione... sono le guerre di religione... in particolare... vedete... la guerra dei Trent'anni... che determinano... questo scivolone... del... Rotero... sarà uno dei grandi... responsabili... di questa... di questo problema... in cui... è l'interpretazione... che domina sul fatto... è la parola... che... venendo... trasformata... pensate... si sono fatte... ci sono state... le popolazioni... che si sono scannate... per... per un'interpretazione... di una parola... per una... traduzione... per una cattiva traduzione... per... e tutto questo è... però... un fenomeno... che... nella modernità... esplode... esplode... anche... a causa... della... creazione... della stampa... la stampa... che consente... la diffusione... di... di queste alternative... consente... anche... la diffusione... di... spostamenti... pensate... ogni buon... eh... dizionario... che si rispetti... di una certa... di un certo... spessore... di un certo peso... facendo un'analisi storica... del... dei termini... ne... documenta... anche... la trasformazione... di senso... attraverso i secoli... eh... l'esempio più banale... per noi oggi... potrebbe essere... anche questo... di... virtue ethics... perché... la virtù... per i greci... è la rete... che non ha più niente a che vedere... con quello di cui parlano loro oggi... e sicuramente... non ha... nulla a che vedere... con... le considerazioni morali... cioè... l'equivalenza tra giustizia e carità... e... interesse personale... e realizzazione di un desiderio... perché... vedete... la signora Foote... chiaramente... in queste... costruzioni ideologiche... che... che ha fatto... adesso è passata a miglior vita nel 2010... ma... che... rigetta... gli imperativi ipotetici... kantiani... o per meglio dire... anche qui... li... li rivolta... perché... proprio Kant ci dice... che gli imperativi ipotetici... che adesso utilizzeremo una formuletta scolastica... non c'è il modo e il tempo qui per addentrarci sul tema... sono quelli... se voglio... la formuletta scolastica che viene utilizzata... e se voglio x... devo fare y... e in questo senso... un imperativo ipotetico... è... è... relativo... unicamente... ad un... preciso interesse personale... e dunque... non può essere... universalizzato... dunque... non può dirsi... secondo Kant... eticamente valido... nel senso in cui... non posso... proporre... un imperativo ipotetico... come una forma universale... per questo ci vorrà... l'imperativo categorico... vedete... anche qui già... in questa spiegazione... in tre secondi... che non è una spiegazione... è semplicemente un accenno... al tema... e il rapporto tra gli imperativi categori... l'imperativo categorico... è quello ipotetico... si palesa... anche... anche qui... la pesante confusione... della modernità... perché... voi sapete che oggi... ti dicono... ah... ma tu... generalizzi... la generalizzazione oggi è vista... come un nemico... e perché... è vista come un nemico... perché... il senso della realtà... è diventato... un senso parziale... particolare... come dice la signora Foote... la giustizia e la carità... sono la stessa cosa... dell'interesse personale... e la realizzazione del desiderio... allora in questo contesto... tu non puoi più... infatti la signora Foote... coerentemente sarà contraria... a Kant... tu non puoi più... ottenere... delle verità etiche... che siano... che possano dirsi universalmente valide... nel pensiero anglosassone... questo... e... anche credo... credo ormai... anche in quello che era... il pensiero continentale... credo sia ormai... percolato questo concetto... e secondo cui... non possono darsi... delle forme... etiche... universali... che è proprio contrario... a tutta la tradizione culturale dell'Occidente... è completamente contrario... è completamente... da un'altra parte... è stata da un'altra parte... la tradizione culturale dell'Occidente... si basa proprio... sull'universalizzazione... di norme etiche... di norme di pensiero... di norme razionali... proprio... è il nucleo della tradizione occidentale... siano queste... nella loro forma teologica... siano queste... nella loro forma... filosofica... giuridica... matematica... scientifica... questo appunto è uno dei segni... della caduta... della modernità... voi pensate... pensate anche un'altra cosa... c'è una... un termine... che forse... forse non avete... non avete sentito prima... non avete mai sentito prima... che anche in questo caso è una... è detto... la fallacia della... motta castrale... motta castrale... in inglese si dice... the Mott and Bailey fallacy... motta castrale... sapete... erano delle... delle fortificazioni particolari... ancora ci sono in Italia... dei paesi che hanno... motta come... come... primo nome... poi... motta Santa Anastasia... oppure c'è anche un'altra... motta... in Puglia... e ce ne sono... insomma... erano questi... questi... queste motte castrali... che sono delle particolari strutture di difesa... con una torre... un... 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 delle mura... circolari... questo termine... della fallacia... della motta castrale... è stato coniato... da... Nicholas Shackle... si chiama... ed è iniziato ad entrare nel discorso contemporaneo... a partire dal 2014... proprio... o in particolare... grazie all'uso fatto da uno psichiatra californiano... che si chiama Scott Alexander Siskind... che... di cui... che ne ha parlato nel suo blog... che era molto importante... che... all'epoca... e... Shackle... ha scorto questa fallacia... proprio analizzando... i discorsi... non le argomentazioni... i discorsi... di... di quegli autori... quella... quella frotta di autori... degli anni sessanta... in particolare... francesi... che poi si... si diffonderanno... autori come... Foucault... come... Diotat... in America... Rorty... e tutta la banda dei postmodernisti... sapete... la post verità... tutti questi... tutte queste perle della modernità... e... scrisse questo... questo... Shackle... scrisse questo... breve saggio... Mott & Bailey... Doctrines... proprio pubblicato nel... 2014... ora... uno dei... punti fondamentali... uno dei punti importanti... di questo saggio... è quando lui utilizza... il truismo... proprio lo cita nel saggio... di colui... il quale dica... la moralità... è un costrutto sociale... ora... scusatemi... ma... è evidente che... queste cose che noi riscopriamo... sono cose che già noi conoscevamo... basterebbe leggere Platone... per già conoscere tutte queste cose... ma... purtroppo noi Platone... non lo leggiamo più... dunque... possiamo addentrarci... anche in questa riscoperta... di quelle cose che già Platone ci aveva insegnato... che... la modernità offre come nuove... ma... va bene così... un'epoca può anche reinterpretare... qualcosa di antico... sarebbe bene se... prima si studiasse l'antico... ma non vogliamo entrare in un discorso su questo tema... ora... lui dice... colui che viene... vi dice... la moralità... è un costrutto sociale... utilizza in questa frase... un sottotesto... e il sottotesto che... che vi vuole fare passare... è quello... non esistono... i concetti... di giusto e sbagliato... e pensate... questi discorsi erano già dibattuti da... erodoto... dagli storici antichi... dal primo storico antico... ora... i truismi... sono strumenti... della manipolazione... che vengono utilizzati costantemente... un truismo è... un truismo è... quando qualcuno dichiara qualcosa... come se fosse così evidente... da non richiedere alcuna... spiegazione... è evidente... è chiaro che il cielo è azzurro... solo che in questo caso è vero... il truismo invece viene utilizzato... per ingannare... un truismo è ad esempio... quello che è stato utilizzato... credo... poche settimane fa... dal gazzettiere... dal gazzettiere che gestisce... questa trasmissione zona bianca... il quale ha iniziato... un discorso sulle inoculazioni... dicendo... è chiaro... proprio... testuali parole... è chiaro... è evidente... è lapalissiano... che l'inoculazione... le ho detto un'altra parola... che non possiamo utilizzare... abbia salvato... tanti anziani e fragili... lui ha formato lì... un truismo... ha dato per certo... ha detto... è chiaro... evidente... è lapalissiano... più di così... non poteva confessare... io non ho mai sentito uno che venga... che si dica... è chiaro... si io voglio... discutere... è chiaro... immaginate che vi dico... è chiaro... evidente... è lapalissiano... che questa è una penna... perché questa ridondanza... già vedete... la ridondanza... dovrebbe metterci in allarme... rispondendo alla signora... la quale dice... chi è il responsabile... la ridondanza... quando uno viene... chiaro... evidente... è lapalissiano... già devi stare attento... poi nella frase mette... guardate... questa... questa è la grandezza... dei gazzettieri... il fatto di poter mettere così tante... fallace... errori... inganni... menzogne... in poche... in... sette parole... in otto parole... perché innanzitutto... non è chiaro... non è evidente... non è lapalissiano... questo è un discorso ipotetico... per il quale... tu non puoi avere... una conferma... fattuale... perché puoi sapere... quello che è successo... ma non quello che... non è successo... ma poi ci ha messo... pure anziani... e fragili... scusate... io per me... l'anziano... era il fragile... perché ci ha messo... anziani... e fragili... lui dice... sì... perché ci sono anche persone di 12 anni... che hanno una malattia... sì... su 60 milioni... ce ne sono... una... due... sì... ma... ci sono... sì... però tu non mi puoi fare un discorso... per 60 milioni... partendo da una... due... vedete anche qui... la logica elementare... la statistica elementare... manipolata... a livelli che sono indecenti... grazie appunto... all'uso del truismo... e questo fa parte... di quella fallacia... della motta castrale... di cui appunto non... non si parla... non si discute... che questo termine... è introdotto dal... da Nicolas Sheckle... ora... il truismo... è molto pericoloso... perché... offre... una piattaforma di validazione... a qualunque iperbole... o ideologia... anzi... è proprio uno dei presupposti... del discorso ideologico... come vedete... tanto nella dichiarazione... della signora Foote... tanto nel rigetto... dell'imperativo categorico... quanto nell'introduzione... di queste... fallace... della motta castrale... oppure... dei... 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 dei truismi... all'interno della società... consentono... la... l'emergere... l'emergere... di qualunque tipo di discorso... sensato... insensato... ma anche di qualunque tipo di... narrazione... di qualunque tipo di... iperbole... c'è un passo in... in Osea... che dice... il mio popolo... perisce... per mancanza di conoscenza... capitolo quarto... il mio popolo... perisce... per mancanza di conoscenza... guardate... è una frase che oggi... si attaglia perfettamente... alla situazione contemporanea... pensate... questi signori... che dichiarano... l'impossibile... di recente c'è stato... Zizek... altro nome... adorato... dall'industria culturale... perché l'industria culturale... anche lì... non ci si pone... se tu... Zizek... lo... 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 l'altro... l'elenco qui è lungo... ma... restiamo su Zizek... ma... se tu lo ascolti due minuti... lo leggi due minuti... e... capisci che... che è un fanfarone... capisci che è uno che appunto... appartiene a quella genia... di... di... di quelli della fallacia... della motta castrale... che... contro cui... Shack scrive... e molti altri... io penso al... libro straordinario... che oggi viene appunto... infangato... calunniato... perché loro aspettano un po' di tempo... no... quando emerge la... la botta... tacciono... si vanno a rintanare... aspettano poi... dieci vent'anni... e cominciano... e cominciano a infangare... mi riferisco al libro di... Alan Sokal... e... Jean Brickmont... che però... il saggio iniziale... era di Alan Sokal... sulle beffe intellettuali... in cui... dimostrarono... il libro... il libro è straordinario... è importantissimo... da leggere... per capire... come funzionino... questi meccanismi... dell'industria di... di vidimazione... dell'industria culturale... è uno dei tanti libri... importanti da leggere... e... in inglese si intitola... intellectual ox... beffe intellettuali... inganni intellettuali... e dicevamo... questo Zizek... che è proprio fino... lui fa finta di no... fa finta di essere... come... come... come Cimski... di cui abbiamo già... parlato... nel contributo precedente... grande uomo morale... che però... aveva poi... che ha tutti questi... aveva questi rapporti... di... di... confermati... con Epstein... o molto morale... sapete... questo... è un... è un'industria... l'industria culturale... è un'industria della falsità... e per questo si rifà... all'industria cinematografica... è un'industria del falso... venduto come vero... e arriva oggi... al... al livello... più... più grottesco... più pazzesco... di... di... di attribuire pronomi... di... di fare cose che... che vanno al di là... del... del senso... del... della razionalità elementare... però... funzionano... perché appunto... l'individuo... lo spostamento semantico... la propaganda... la manipolazione... funzionano... quella signora viene e dice... ma chi è responsabile della mia condizione... adesso dopo che io... autonomamente... mi sono andato a fare il... l'inoculazione... ah... perché altrimenti non mangiavo... guarda... senza mangiare si può stare a lungo... poi insomma... in una società come quella moderna... il mangiare bene o male lo si trova... vai alla Caritas... fai la lemosina... è meglio andare per strada... a fare lemosina... anche non... farti ammazzare... pensate... nell'ebraismo... il sabato è... un giorno... santo... sacro... il giorno più santo... di tutta la religione ebraica... e non si deve violare... non si devono fare determinate cose... non si devono... andare in macchina... non si devono accendere luci... non si devono... bisogna evitare qualunque tipo di attività pratica... discutere di affari... eccetera eccetera... c'è però una sola condizione... che consente di violare il giorno più sacro... che esista... tu non puoi andare in macchina... però puoi chiamare un'ambulanza... se uno sta male... di fronte alla vita... di fronte al pericolo della vita... tutte le altre cose... passano in... posizione secondaria... logica elementare... non c'è nulla di... trascendentale... la scusa di dire... sì però non mangiavo... senza mangiare si può stare a lungo... con una sostanza sperimentale in corpo... ebbene... torniamo a questo Gizek... che ha bellamente... bellamente... tranquillamente... ha dichiarato al... si chiama il festival... proprio quest'anno... poco tempo fa... ha dichiarato... only a catastrophe can save us... soltanto una catastrofe ci può salvare... allora... al di là del... evidente... dell'evidente presa in prestito... dal... titolo... della... famosa intervista di Heidegger... allo Spiegel... dove diceva... ormai soltanto un Dio ci può salvare... non so se lui abbia... citato questo riferimento... da cui lui prende questa frase... probabilmente no... non lo so... non ho seguito... non ho ascoltato... perché non riesco ad ascoltarlo... questo signore... ho pensato al ben pensante... ma lasciamo stare... e poi proprio... sempre... sempre... in questi mesi... all'Istitute... for Arts... and Ideas... si è chiesto... con una faccia di bronzo... questo signore... che poi fa le conferenze... insieme a Harari... e questo del... del transumanesimo... del... che ha scritto... Homo Deus... Homo Deus... anche... chi è che... qual è la dottrina dell'Homo Deus... nel testo biblico? è la dottrina del serpente... lasciamolo per... e comunque... questo signore... che si siede... in questi consessi... perché oggi... la visibilità è tutto... la pubblicità è tutto... invece ci sono alcuni... che diciamo... keep it... e mi mantengo... in un linguaggio forbito... e dicevamo... ha avuto il coraggio... l'ardire... la spudoratezza... di dire... how philosophy... God lost... com'è che la filosofia... si è persa... tu... tu... tu che sei... proprio perché tu sei lì... la filosofia si è persa... e il pensiero si è perso... se non ci fossero questi individui... in queste sedi... noi non avremmo perso il pensiero... non avremmo perso il mutterwitz... non avremmo perso la capacità di ragionare... elementare... non avremmo perso il senso della realtà... che ci viene deprivato... ci viene... ci viene... sottratto... proprio dalle strutture dell'industria culturale... questo va lì... bellino... bellino... vedete come... è tutto... è tutto... è tutto un gran parapiglia... è tutto un grande disastro... perché lì hai nell'industria culturale... questi signori con la faccia di palta... che dicono le cose più incredibili... nessuno che si alza e gli dice... scusi ma... cosa sta dicendo... lei che dice oggi una cosa... domani un'altra... che... per il quale... che è un... un ideologo del momento contemporaneo... ed è ideologo... perché è chiaramente... evidente... evidente... voi direte... ma come faccio io a dirlo... lo dico proprio perché... è nelle sedi in cui si trova... se tu non... se non si è ideologhi del... Dante... non era... accolto a Firenze... perché non era... un ideologo dell'epoca contemporanea... Roscellino invece sì... infatti noi ricordiamo Roscellino e non Dante... è curioso ad esempio come tutte le grandi... democrazie tra molte virgolette occidentali... abbiano delle televisioni di Stato... sovvenzionate con i soldi del contribuente... per il quale poi però... non ci sono abbastanza contributi... per pagargli le pensioni... per eliminare la... la disoccupazione... per eliminare la... e quindi che... i barboni dalle strade... tutte queste altre cose... per favorire... per agevolare l'edilizia... per dargli una casa... un tetto sopra la testa... per tutto quello non c'è... ma miliardi per... apparati di disinformazione ci sono... fino a che punto riesce ad arrivare... alla falsificazione del mondo... nell'epoca contemporanea... è qualcosa che ha dello strabiliante... pensate quando... oggi... in questo momento... si parla di città dei ricchi... sapete queste cose che in cui... esiste una politica che sta facendo... apertamente una politica contro il cittadino... però non da oggi... ora ci sono quelli che si sono svegliati oggi... se ne accorgono... anche perché oggi è un pochettino... veramente estremo... ma non è da oggi... hanno iniziato con una politica contro il cittadino... a partire dalla caduta del muro di Berlino... perché non c'era più l'antitesi... e adesso lo vedete... anche questo fatto... delle... delle... zone... a tempo limitato... le ZTL... a Roma... e in altre... in altre città... non so... insomma... ho letto... che se ne parla... a Roma... nessuno che si pone la domanda... da dove viene questa cosa... delle ZTL... sapete... è iniziata a Oxford... dove ci sono state molte proteste... le 15 minutes city... si chiamano... in America ci sono alcuni stati... tipo l'Oregon... dove ne parlano... ma non credo sia possibile... e poi tutte... tutte le altre imposizioni... come... auto elettriche... case ecologiche... eccetera... ora... quelli che... criticano tutto questo... dicendo... ah sì... si fanno le città dei ricchi... questo e l'altro... dimenticano... che la ricchezza... si basa su un'economia funzionante... e questo... che questa politica... gestita appunto da idee... di quelli che poi vengono... come... ah... come si è persa la filosofia... come si è perso il pensiero... lo dici tu... come se avessimo una... ehm... vabbè... non facciamo esempi scurrili... ma... ma diciamo... questo modello... che stanno proponendo... non è un modello... che prevede... quel tipo di futuro... in cui vi siano ancora delle persone... in grado di avere un tenore di vita particolare... come era... per la classe media... tutti quelli che fanno parte della classe media... tutti quelli che... in questo momento... stanno pensando... per noi va ancora bene... e noi... se ci accodiamo... se obbediamo... stanno facendo il solito errore... che fanno sempre nella storia... lo fanno sempre... è un errore ormai... un classico... è l'errore con il bollino blu... lo fanno sempre... quando si misero dietro Mussolini... quando si misero dietro Hitler... ogni volta fanno sempre lo stesso ragione... lo stesso errore... pensando a noi non ci toccherà... la grandissima poesia di Niemöller... dovrebbe insegnare qualcosa... che non insegna... ricordate quando... il suo testo più importante... quando dice... prima vennero e presero i comunisti... io non dissi nulla... perché non ero comunista... poi vennero e presero gli ebrei... poi vennero e presero... e poi vennero a prendere me... e non rimase più nessuno... per protestare... per difendermi... fanno sempre lo stesso errore... è incredibile come... gli individui... forse perché ogni volta... ogni nuova generazione... vedete questa è una teoria... che io trovo molto affascinante... anche... per la... per l'assenza di ragionamento... che vi sta dietro... quelli che dicono... ogni generazione deve imparare... quello che... ha imparato la generazione precedente... è come se non avessimo una tradizione... come se non avessimo una cultura... come se non... in realtà non ce l'abbiamo... ecco... capisco... all'atere questo discorso... perché... noi non ce l'abbiamo più una cultura... non ce l'abbiamo più... e allora... ogni nuova... ogni generazione deve imparare... ex nuovo... quello che la generazione precedente... o due generazioni prima... hanno dovuto imparare... con le brutte... questo... il... sarebbe il ruolo... fondamentale... del sapere... della cultura... per questo... bisognerebbe avere una scuola che... insegna... non che... inculca... dottrine... ideologie... che in sé... che... che... piega l'obbedienza... dovremmo avere una scuola altra... proprio per evitare questi errori... ma... chiaramente questo non sarebbe... favorevole a quegli stessi poteri... che gestiscono questa scuola... guardate... è una cosa meravigliosa... ma... questo modello che stanno proponendo... non è più un modello economico... o quantomeno... è un modello pre-mercantile... è un modello feudale... perché tende... apertamente... ossia... questo è un modello di vita particolare... che tende... apertamente... ad una radicalizzazione... dei rapporti... e dei registri sociali... il modello di riferimento qui... non è più quello della... della... società... capitalista... mercantile... democratica... no... ma è il modello delle società... feudali... alle quali in passato... si erano succedute... le società mercantili... l'inversione qui... non è qui quella secondo cui... vogliono... riformuliamolo... l'inversione della realtà qui... la sovversione della realtà... è quella secondo cui... il mercante oggi... vuole diventare re... ma non il mercante qui... il mercante in basso... il mercante di quello 0,01%... ed è evidente... con questo modello di socialità... che propongono... che non è più che... al di fuori delle categorie... dell'economia... e al di fuori delle... delle categorie... di una società... in cui... possa ancora... esserci un... un... un benessere collettivo diffuso... è una società dove... deve esserci obbedienza... dove devono esserci... una rigida... divisione in caste... voi pensate una cosa... quando ne diciamo feudalesimo... anche qui uno dei tanti problemi... della scuola... noi diciamo... il periodo che... bello... preciso... ma il termine feudalesimo... viene coniato nel settecento... e il settecento... in particolare con la rivoluzione francese... che inizia... ad interrogarsi sulle epoche... che... che l'hanno preceduta... ed è lì... che cominciano a vedere... questa suddivisione... questa... strutturazione... della socialità... in fase... in cui esiste... il modello feudale... poi esiste... il modello mercantile... che poi si esprimerà... anche... in momenti culturali... della storia occidentale... come saranno... il romanesimo... il rinascimento... ed è... è un fatto noto... questo... credo si studia ancora... nelle scuole... che... il rinascimento... è anche... il prodotto... di... questa cultura mercantile... il fatto... dell'emissione... c'è anche un fattore... mercantile... economico... dietro... in cui le risorse... non sono... in cui... il modello della socialità... non è più basato... sul... semplicemente... sul potere... della spada... ma è... è basato... su una società... che diventa mercantile... stoffe... spezie... pietre preziose... interscambi... il sorgere di... di monete stabili... il sorgere di... cioè... è un modello... di socialità... in cui... c'è... per tutti... c'è qualcosa... per tutti... oggi invece... siamo in un modello... di socialità... oppure... si... si tende... si spinge... la socialità... verso un modello... in cui... come dicono questi signori... del... del forum... degli scappati di casa... you will own... you will own nothing... and you'll be happy... tu non avrai nulla... e sarai felice... ma non avere nulla... non è qui... soltanto ormai... una... direzione... in senso economico... è una direzione... in senso sociale... politico... antropologico... mangerai quello che ti dico io... obbedirai a quello... ti inietterai quello che voglio io... vivrai come dico io... starai in una città... quel tempo che ti dico io... è un modello feudale... vedete... paradossi morali... connessi... al senso della realtà... se noi avessimo un senso forte della realtà... non potremmo essere irretiti... in questi modelli... e... tornando a un sapere antichissimo... tornando alla... frase di Osea... il mio popolo perisce... per mancanza... di conoscenza... grazie... grazie... grazie...